Meno infortuni sul lavoro e meno morti bianche, dati parzialmente confortanti quelli diffusi dall'Inaile Lazio nel suo rapporto regionale riferito allo scorso anno. Nel 2012 nella nostra regione sono stati denunciati 46.495 infortuni che comparati con il 2012, 51.615, evidenziano una contrazione del fenomeno infortunistico pari ad un meno 9%. Per quanto riguarda invece gli incidenti mortali, si è registrata sempre lo scorso anno una diminuzione pari a 9 unità. Infatti nel 2012 sono state denunciate 61 morti a fronte dei 70 del 2011. Riduzione anche per gli incidenti denunciati dalle donne che nel 2012 nel Lazio è stata pari al 6%. Infatti dai 20.072 del 2011 si è passati ai 18.849 del 2012. Stesso trend in discesa per gli infortuni mortali accaduti alle donne. Ne sono morte sul lavoro 5 rispetto alle 7 del 2011, quindi una diminuzione del 29%. Facendo riferimento al dato infortunistico, noi fra il 2011 e il 2012 abbiamo avuto un 9% di contrazione legata agli infortuni generali. Siamo passati da 51.000 infortuni denunciati ad Inel a 46.495 del 2012. Per quanto riguarda gli infortuni mortali, che sono poi quelli che lasciano ancora di più il segno, abbiamo anche qui avuto una lieve contrazione. Siamo passati dai 70 del 2011 ai 61 del 2012. In relazione alla nazionalità invece, nel 2012 sono stati denunciati 4.957 incidenti a lavoratori stranieri con una diminuzione dell'8,9% rispetto al 2011. La popolazione maggiormente vittima di incidenti sul lavoro è quella romena che ha registrato 1.567 casi. Il dato infortunistico mortale relativo ai lavoratori stranieri è maggiormente confortante. Da rapporto emerge infatti che si è passati dai 18 casi mortali registrati nel 2011 ai 6 del 2012. La popolazione più colpita rimane sempre quella romena con 4 morti sul lavoro. Un altro dato interessante che emerge dalla relazione Inel è la diminuzione delle malattie professionali che non vengono denunciate per paura di perdere il posto di lavoro, un fenomeno probabilmente dovuto alla crisi economica e che riguarda il maggior numero le donne. Gli infortuni per noi sono, come dire, carne viva, trattando poi noi le persone che dal malo lavoro hanno avuto un danno o trattando purtroppo anche le famiglie che dal malo lavoro hanno avuto una morte, una fatalità, insomma un evento mortale. Per cui dobbiamo lavorare insieme facendo squadra in modo che gli infortuni si riducono ancora di più ma addirittura si annullino nel tempo. Grazie. Grazie.